Diritto alla riparazione. L'Europa, la comunità europea, sta per disegnare un obbligo per chi produce elettrodomestici di darci ben sette anni di possibilità di cambiare i pezzi di ricambio. Mi sembra molto interessante questa proposta, che tra l'altro sta andando avanti, con l'eccezione non soltanto i sette anni per elettrodomestici, ma dieci addirittura per le lavatrici, per obbligare i produttori ad allungare un po' la vita dei pezzi di ricambio. Questo perché, per il motivo principale, noi parlavamo anche l'anno scorso dell'obsolescenza programmata, quindi del fatto che i nostri dispositivi vengano assolutamente a mancare in qualche maniera dopo sei mesi, un anno, muoiono in qualche maniera e devi cambiare il televisore, devi cambiare il cellulare, devi cambiare il computer, devi cambiare qualsiasi cosa. Questa nuova legge in realtà dovrebbe andare incontro anche a tutto quello che è il mondo del green, cioè non saremo più obbligati a buttare via totalmente il prodotto, ma a cambiare solamente il pezzo, buttarlo e costruirlo di nuovo. Qual è la criticità? È che per il momento all'interno di questa nuova proposta c'è l'obbligatorietà di fornirsi dai rivenditori autorizzati, quindi non da chiunque. Questo potrebbe essere anche un bene per aiutare le aziende che producono a fare un prodotto che duri, perché altrimenti poi si accollerebbero il diritto di riparazione. Non ci sono dentro però i cellulari, che tra l'altro, secondo gli studi, sembrerebbero essere sempre più di lunga durata, cioè sempre meno cambiamo il cellulare frequentemente. Un po' ci sta, perché comunque le funzionalità dei nuovi cellulari non sono così strabilianti tanto da obbligarci in qualche maniera a cambiarli, e quindi al di là dell'obsolescenza programmata che ci obbliga a fare un cellulare e non funziona più, potremmo farli vivere ancora di più. Spero che passi, spero che funzioni, fatemi sapere i vostri commenti qui all'interno del video.